L'hai rativando! Chiamate la polizia! L'hai rovinata! L'hai rovinata! Polizia! Tu l'hai rovinata! Tu e quel maiale di tuo marito! Ve ne siete sempre fregati di lei! Stronzi! Fottutissimi stronzi! Fottuto! Grazie! Signore! Lei può confermarmi le generalità dell'aggressore? Sì! Si chiama Claudio! Claudio Ferranti! Lo sa che è scappato da una comunità terapeutica? Ah sì? Ecco dove sarà nascosto quel figlio di puttana! E non sa neanche che ha rubato una macchina per raggiungere sua figlia all'ospedale? No, no, guardia, non so niente, so solo che mi ha insultato e mi ha dato un pugno! Quali erano i rapporti fra sua figlia e Claudio Ferranti? Cos'è? Scusi, non vedo questo come la possa interessare! No, scusi, lui dice di essere... Io uso le parole che mi ha detto durante l'interrogatorio! L'uomo di Laura Rinaldi, sua figlia! Ecco, questa è un'idiozia! Perché Laura non ha niente a che fare con quello, niente! Fatti che il Ferranti dice di avere commessuto con sua figlia! Senta, mi faccia capire, sono qui per subire un interrogatorio o per fare una denuncia? No, si cambia, si cambia, la prego, si cambia! Io capisco il risentimento che prova per il Ferranti! Sappiamo, sappiamo che è responsabile dell'incidente e occorso a sua figlia! Ma qui, in questa sede, bisogna dire solamente la verità! Io non ne dico una parola di più di quelli indispensabili a questa denuncia, d'accordo? Il Ferranti è già stato tradotto all'istituto penitenziario di pertinenza! Questa, questa sua denuncia ne aggrava pesantemente la posizione! Lo spero! E intende, intende a confermare la sua denuncia? Sì! Ma poterlo, buonissimo! Non c'è, ma poterlo! C'è, 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 c'è c'è... C'è, c'è 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 c'è... Vanno entrare. Allora. Non mi vuoi dire niente? Il ragazzo di mia figlia mi ha congiato così. È per lei che sono tornata. Tua figlia? Dov'è tua figlia? L'hai conosci tu? Io la conosco. È quella ragazza che stai seguendo il centro? No. Allora. Ecco perché sei venuta qui. No, no, non è così. Non è così. È che sono disperato. Non è così. Non è così. Spera. Giarda. Spera bugie, bugie. Non mangia gli spaghetti. Si appiccicano tutti. Spera bugie. Spera bugie. Spera bugie di coca quel disgraziato. Ho perso il controllo e sono finito con una scarpata. non c'è mica fatto niente. Non c'è mai un graffio. Non c'è mai un graffio. Una macchina l'aveva rubata naturalmente. E che ha fatto? È scappato. Ti rendi conto? L'ha lasciata lì Laura. È appena degnato di telefonare alla polizia per avvertire dell'incidente.